Buongiorno, sono Gian Nicola di Gruppo Carmeli ed oggi vi parlerò di questa Renault Cajar 1500 DCI Sport Edition con cambio automatico. La cura che Gruppo Carmeli mette nella preparazione dei propri veicoli aziendali si rifletta nelle condizioni ottimali di questa Cajar che ha percorso ad oggi circa 30.000 chilometri. La dotazione è molto completa e comprende volante multifunzione, monitor da 7 pollici con Apple CarPlay ed Android Auto, clima automatico V-Zona, cambio a doppia frizione 7 rapporti, freno a mano elettronico. Esternamente troviamo i cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici 4 stagioni, sensori di parcheggio anteriori, posteriori e retrocamera. Il bagagliaio è estremamente spazioso e grazie al doppio vano di carico comodo da sfruttare. Se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiama lo 030 77 24 011. I nostri consulenti saranno a tua disposizione.